Abbiamo scritto a Roberto e anche alla sua principessa, a sua moglie Nicoletta, rivolgendo a loro un invito. Venite qua, ritornate nel luogo dove voi vi siete conosciuti. Buongiorno principessa. Grazie al film da Oscar e alla scena entrata ormai nella storia del cinema, il fienile di Castiglion Fibocchi ha così fatto il giro del mondo, ma alcune settimane fa è letteralmente collassato sotto il peso del tempo e delle forti piogge. Il fienile della vite bella, quello in cui per la prima volta Guido incontra la sua dora che letteralmente chi cade tra le braccia, diventerà un agriturismo. La Fraternità dei Laici ha infatti deciso di ristrutturarlo e per l'occasione ha scritto una lettera anche a Roberto Benigni. La Fraternità dei Laici, dopo la messa in sicurezza, ha già predisposto un progetto per la ristrutturazione non solo del fienile, ma anche della casa colonica e della Leopoldina, risalente al 1700. Un progetto molto importante, ma anche altrettanto oneroso, che richiederà circa 2 milioni di euro. L'obiettivo è di creare un'offerta di agriturismo nazionale e internazionale. La Fraternità dei Laici adesso conta di iniziare il prima possibile i lavori di ristrutturazione. Dopo aver rescisso il contratto con la vecchia ditta di Napoli, ha infatti pubblicato un nuovo bando per assegnare i lavori. La scadenza è il prossimo 4 febbraio. Anche un grande e importante operatore economico, agricolo, qua della zona di Castiglione Fibo, che si è dichiarato disponibile a contribuire anche sul piano economico al restauro di questi beni storici. Iniziamo anche il Presidente Gianni, perché in fondo questo è un luogo simbolico proprio del lavoro agricolo, della gente toscana, dei contadini toscani, ma anche del paesaggio agroalimentare che è qui attorno. Noi abbiamo vigneti, abbiamo oliveti, abbiamo quasi 500 ettari di terreno qui attorno. Grazie.